Fine del ciclo di ferro stasera a partire dalle ore 20.45 al Ciro Vigorito nel domicilio del Benevento. Torna in campo il Cerignola a completamento di un poker terribile di incontri, cominciato con il successo interno contro il Crotone e proseguito con la sconfitta pesante sul campo della capolista Juve Stabia e il pari interno senza reti di domenica contro il Taranto. Sannitti reduci da sei risultati utili consecutivi, quattro vittorie e due X ed imbattuti da quando c'è Gaetano Auteri in panchina. Sarà importantissimo iniziare bene con un atteggiamento giusto, aspettarci una gara difficile, dovremo essere pronti ad aspettarci un Benevento che avrà voglia di fare bottino pieno in casa perché viene da una striscia positiva, viene da un cambio di allenatore dove con questo cambio comunque ha invertito la marcia, ha un organico di tutto rispetto, quindi avrà anche la possibilità nonostante le 24 ore in meno rispetto a noi di recupero per quello che è stato il post-gara contro il Crotone, avrà la possibilità di scegliere in una rosa molto ampia dei giocatori validi e la maggior parte anche forse un lusso per la categoria, quindi sarà un ambiente caldo, sarà una partita difficile e per far sì che il Cerignola faccia la sua gara non dovrà assolutamente sbagliare l'atteggiamento e dovrà restare in partita il più a lungo possibile. Sarà molto importante la gestione delle forze e dell'energia in questo turno infrasettimanale, anche in considerazione poi dell'impegno casalingo di domenica contro il Monte Rossi. Possibile ritorno tra i titolari del Cerignola a centrocampo di Ruggero scalpita anche l'ultimo arrivato al Monterisi, l'attaccante Vutai. Abbiamo un gruppo che si sta ritrovando sotto l'aspetto numerico e questo per me è motivo di soddisfazione e non a caso si è visto anche nella partita di Coltanto che comunque nel momento in cui sono dovuto andare a pescare dalla panchina, chi è entrato non ha fatto rimpiangere chi aveva giocato dall'inizio, anzi aveva dato qualcosa in più, quindi la la panchina comunque lunga e importante ti dà soluzioni nell'arco dei 95 minuti e quindi lo avranno loro ma lo abbiamo anche noi, quindi ripeto cercheremo di scegliere i primi 11 e poi eventualmente quelli che dovranno subentrare per far sì che possa venire fuoco una partita intensa.